Andrea tu hai accumulato molti anni da regista sia di film di fiction come si dice sia di documentari e sempre di più però nella tua ultima produzione c'è un rapporto proprio con la natura sempre più profondo. Sì sì mi porto un po' dietro anche dalle fiction di lontano da tutti che c'era questo protagonista che andava a vivere in montagna e sono rimasto affascinato dalla montagna nel precedente film si intitolava proprio su queste montagne. Hai presentato il premio per il miglior montaggio l'anno scorso al festival con quest'altro film e continui ad esplorare i luoghi della natura. Perché la natura è tutto insomma racconta già da sé una storia no? Già queste inquadrature no? Si vede Castelluccio in nevata, si vedono dei paesaggi bellissimi. Già questo è film infatti non ci ho messo nemmeno la musica perché proprio non serve una colonna, la colonna sonora è il suono del vento no? Gli uccelli, i rumori di loro che camminano sulle macerie. Io penso che non c'è bisogno di colonna sonora e quindi ecco la natura diventa sempre la protagonista dei miei film, infatti anche il titolo su queste montagne rappresenta un luogo. In questo caso il terremoto di Norcia è sempre un luogo, non c'è una storia reale che si racconta di personaggi, si racconta sempre il posto. Un amore anche, una storia d'amore con la natura anche quando la natura è crudele. Sì, beh la natura comunque fa il suo percorso, i terremoti sono sempre stati, dopo deve essere l'uomo che deve essere in grado di capire come dice lui che non bisogna costruire palazzi insomma su un territorio come Norcia, bisogna fare delle case a un piano di legno possibilmente e che non crollino insomma. Quindi la natura deve essere, è madre e matrigna dico io, insomma ci dà il pane perché come abbiamo visto gli animali, le bestie, le cose, noi viviamo per quello, mangiamo quelle cose lì, però allo stesso tempo dobbiamo essere anche in grado di integrarci in questo ambiente. Tu hai un cinema molto francescano da questo punto, e tra l'altro forse non a caso tu hai anche sostenuto la realizzazione del film. Del tuo film, sì. Del film, io ti ringrazio appunto, oltre ad averti anche rubato degli attori tra l'altro. Benconi, sì, Maurizio. Ma hai anche partecipato alla campagna di crowdfunding per sostenere questo film che ripresenteremo domenica. Molto bello, ti faccio i complimenti, l'ho visto domenica. Adesso, non volevo fare pubblicità di film, ma era, non mi è venuto questo link francescano perché poi appunto i tuoi film, appunto soprattutto questi negli ultimi anni, sei diventato particolarmente francescano. Questo rapporto anche con gli animali, con la natura, questo immergersi, questi panorami splendidi, cioè le immagini dei tuoi film sembrano davvero un cantico delle creature perché appunto anche come dici tu, senza variare, anche soltanto le immagini ti fanno, ti riconciliano in qualche modo veramente con, con il creato. Sì, beh, ti ringrazio. Beh, le inquadrature penso che siano insomma la cosa fondamentale nel film, ma poi soprattutto nel cinema così indipendente noi dobbiamo raccontare queste cose, questi posti che nel cinema, quello classico non si vedono, nel cinema classico si gira tutto negli interni, si fanno i teatri di posa, quindi solo noi indipendenti possiamo raccontare questi posti meravigliosi che abbiamo tipo su Campi di Norcia, cioè vorrei dire due parole per Roberto che veramente sta facendo tantissimo per Campi di Norcia, per Norcia, perché come dice lui sta veramente tenendo insieme tutte queste persone, altrimenti se ne sarebbero andate, sarebbero andate a vivere in città e questi territori morirebbero. Passiamo ora al premio per la miglior produzione, inviterei sul palco un'altra gaffa, scusate, Francesco Casali, economo dell'Istes e Sandra Mazzachiodi, segretaria generale. Miglior produzione, Andrea Sbarretti, il terremoto di Norcia. Se vuole le scale sono... ok, è atletico. Complimenti. Grazie a tutti. Condivido questo premio con i protagonisti del film che sono sette anni che vivono sulle casette in legno prefabbricate perché dopo il terremoto la ricostruzione non è iniziata e devono ancora portare via le macerie, quindi penso che dovranno vivere ancora a lungo in queste casette, quindi questo premio è per loro. Grazie mille. Grazie. Grazie a tutti.